bene raga qui al craft e barco ben cioè il mio fratello barco ben punto 36 questa è la nostra via live marco punto 32 vabbè a conoscere parlo questo è la nostra via live come vedete io sono le craft lui è il mio fratello che faceva video con me che adesso c'è un canale iscrivetevi a questo canale poi farò la live sul mio altro canale e con su e spa che poi lui ho sentito che farò la live comunque io il video di soli faccio con il telefono adesso adesso siamo con tablet di mio fratello perchè lui video di faccio tablet allora come vedete aspetta lo sfondo con i defini vabbè ok vai dimettiti dimettiti il seduto marco quindi oggi sono qui la nostra via live che oggi il giorno è oggi 22 22 marzo 2 e 19 allora oggi sono qui per parlare di mio fratello ma come qui marco punto 32 divibiti secolo ok aspetta pacchia via 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 lì ok eccoci qua quattroiette sta fuori a colpi va bene mamma andiamo a prendere il mio fratello Aspetta, Marco, dove puoi andare? Marco, lo spacco la porta, di nuovo, ma... Vabbè, oggi siamo qui, senza mio fratello che adesso non c'è, a dire... Sì, siamo in live, adesso siamo in live, sì. Allora, stavo dicendo... Che video volete da mio fratello? Tipo... Brawl Stars, Minecraft, Mini World... E questo cosa volete? Volete altri live in cui parliamo noi due mazzelletti? Sì, a macchia! Perché la nostra cosa è composta da quattro youtuber, il nostro gruppo. Cioè, Alecraft, Marcomen, cioè mio fratello, poi Missio, Pietro... No, stessi a noi. Quindi, Missio e Macchia. Secondo me, la più stupere è Macchia. Macchia, sì. Allora... Cosa video volete? Oggi sono qui. Ecco, Alecraft solo. Mamma... Mamma, staccia qui, non sto andando in vacanza, se non ci riuscite. Da qui sembra che mi mettete bene. Scusatemi, non mi sono truccato, non ho spesso. Ehm... Ma cosa ho attivato, è bene? Oh, il telefono! Sei bene il cucciolo! Ehm... L'appoggio qua. Ok. Ehm... Allora... Ecco, Marcomen... Alecraft! Che sta alzando? Ecco il nostro youtuber! Marco... Punto... Tutte... 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 Ecco la nostra youtuber professionale di due video di quattro like. Ogni bene! Ma che sta vomitando? Macchia Umbriachea! Ah, ho sbagliato il titolo! Umbriachea! Macchia... Umbriachea! Ma che hai fatta voglia? Stanca! Fatta... Umbriache! Umbriache! Ciao Macchia! Si chiama Macchia! Eh... Ho fatto un po' ancora! Si chiama Macchia, Jack Russell, Eeeh... Piccola di quattro... Piccola di quattro... Si... Posso con il martello? Li portate! Ciao Macchia! Intanto dopo... Vi provetelo tutti... Ma... Stiamo in diretta eh? Cosa stai a fare adesso? Lo mettono adesso? Ah lo stai a fare... Si! Stiamo in diretta! Diteglielo! Ok... Ma... Marco... La tua cosa? Chi è? Non lo so... Che mamma... E' vero? Umbriache! Vabbè... Ehm... Dite... Marco... Dai! Marco... Iscrivetemi... Metti la campanella... Dai! Si! Iscrivetemi e... Metti la campanella... Non la pancia! Ehm... Tu talenti io sto di... Allora... Ditemi che video volete... E qui abbiamo chiuso con i nostri live... Ciao da Ale Croft e Marco Bell!